Dopo il successo della categoria universitaria, ultimamente, sempre sulle piattaforme online, si è organizzata anche la categoria delle scuole secondarie di Chinese Bridge, concorso di lingua cinese dei giovani apprentisti di Italia e di San Marino. Questa edizione, organizzata concitamente dall'Ora Radio Linfonica Confugio di China Media Group Unitalia e dall'Istituto Confugio dell'Università di Roma La Sabienza, è patrocinata dall'Ufficio delle Scienze e dell'Istruzione della Masciata di China in Italia, attirato per 8 candidati provenienti da 12 istituti Confugio di Italia e di San Marino. Andiamo subito a vedere la loro bravura! Come abbiamo visto, ognuno c'è un proprio cavallo di battaglia, ma alla fine, chi si è aggiudicato il titolo di una competizione così accesa? Eccomi il campione! Grazie a tutti!